ragazzi a sto giro non potete mancare secondo torneo dedicato a voi dedicato alla mia community anche questa volta 400 euro di monte premi e che dire se vi volete iscrivere contattatemi trovate i social per farlo nel commento fissato in alto bella ragazzi benvenuti sul mio canale io sono simo play oggi siamo di nuovo insieme per parlare di una grande novità di un grande evento su questo gioco sui football 2024 adesso vi dirò di più quindi mi raccomando guardare tutto il video ragazzi questa parte fondamentale iscrivetevi attivate la campanella lasciate un bel like almeno 100 mi piace perché oltre a darvi questo avviso importantissimo quest'oggi torniamo a giocare sul canale facciamo una partitella io non gioco da settimane ma è arrivato il momento di fare due tiri in porta ecco insieme a voi quindi se apprezzate questo mio ritorno pedala mano lasciate like inoltre vi ricordo che faccio lezioni private su questo videogame trovate tutti i social per contattarmi in descrizione e nel commento fissato in alto ok ragazzi non perdiamo ulteriore tempo perché prima di andare a fare la super partita che segna il ritorno di simo play pedala mano a giocare qui sul canale vabbè perché mi sono fermato perché mi ero scocciato raga non vedo l'ora dell'uscita di football 2025 non vedo l'ora di averlo tra le mani per poter ritornare a rancare comunque credo che nell'ultimo mese dell'ultima fase quella di agosto rancheremo nel tentativo di prendere il bollino divisione 1 che ancora non ho preso perché non ho giocato e magari il bollino top 1000 chissà comunque al di là di tutto questo al di là del mio ritorno pedala mano dobbiamo parlare di quello che succederà domani 25 luglio 2024 alle ore 21 e un quarto infatti konami non fa niente non organizza nulla per l'italia e quando organizza qualcosa è fatta male viene mandata in streaming in maniera non 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 adeguata da personaggi non adeguati perché non vivono questo mondo non vivono il gioco ma anzi sono fifari di solito quelli che contatta con ambi perché secondo la più visibilità in realtà sono tutti arabi che vanno a vedere le partite di questi fifari comunque al di là di questo dicevo la notizia importante che ho deciso io di creare un super evento ragazzi in live dove vi mostrerò la finalissima del torneo della mia community di un torneo di esport che vedrà avete già visto le due semifinali che vedrà affrontarsi questa finale due tre player più forti al mondo due player che hanno già fatto una finale con amici pensate due anni fa due player che sono rispettivamente il primo top 10 ovvero renzino lo scandalo lo scandalo p mio compagno di squadra negli outplayed ex pro della juve ex pro della roma giocatore magnifico che ha vinto anche l'e football pro e dall'altra parte top 50 al mondo nel dream team mattiotti 96 un altro player finalista nel con amici appunto proprio insieme a renzino poi vinse renzino quella finale un paio di anni fa player fotonico un gioco pazzesco lo avete visto nell'ultima semifinale trasmessa qui sul canale e ragazzi si daranno battaglia nel tentativo di diventare ovviamente i campioni in carica di questa community infatti si chiama simo play community cup ma non solo ci sono anche dei premi infatti chi vince si porta a casa 300 euro chi perde comunque di consolazione si porta a casa 100 euro in questa finalissima quindi non mancate alle 21 e un quarto domani qui sul mio canale in live ci saranno anche innanzitutto trovate il link anteprima della diretta nel commento fissato in alto quindi gentilmente vi fermate un secondo andate nel commento fissato in alto lo aprite tutto perché c'è scritto anche altro ci saranno scritti anche i contatti per scrivermi e cliccate sul link anteprima della live e dopo cliccate il tastino avvisami per essere sicuri di non perdere la diretta ma a parte questi due player fotonici che si scontreranno cosa ha di speciale questa diretta beh ci sarà il mio commento quindi io farò la telecronaca passatemi il termine anche se non è tele perché non siamo in tv la web cronaca ecco e ci sarà come ospite ovviamente al mio fianco metaforicamente parlando perché poi siamo a distanza in cabina di commento il socio più socio che c'è alle beni 86 e so che vi piace molto come content perché chiaramente è sempre più seguito e poi come gradito ospite aggiuntivo nel pre partita ci sarà il buon gennaro l'altro nostro compagno di squadra lo strano nerd quindi veramente abbiamo la creme della creme dei content creator di questo videogame all'interno di questa serata avremo anche una regia ragazzi quindi non sarò io a smanettare per cambiare le scene da farvi vedere ma ci sarà una regia in questo caso i due finalisti avranno la cam verranno fatte delle zoomate alla regia in occasione dei gol proprio come succede agli eventi ufficiali con ami o agli eventi esel magari e insomma ci saranno interviste pre partita dopo la partita mostreremo highlights sarà una sorta di programma televisivo ecco passatemi ancora il termine un qualcosa di mai visto a livello tra virgolette amatoriale perché lo stiamo creando da soli non abbiamo il supporto di alcuna associazione ufficiale che fa tornei è proprio una cosa gestita da me per la mia community e voglio dimostrare a tutti anche a chi fa i tornei professionali che si può fare sicuramente di meglio con un minimo di impegno senza nemmeno avere canali giganteschi si può fare molto di meglio quindi nella seconda semifinale abbiamo fatto 140 aspect vi chiedo il vostro sostegno perché nella finale di domani alle 21 e 15 qui sul mio canale youtube tutta questa pappardella che vi ho organizzato voglio superare i 200 spettatori quindi aiutatemi sostenete questa grande iniziativa questa fantastica notizia e perché veramente ho bisogno di voi domani alle 21 e un quarto su questo canale youtube ma non è finita qui non è finita qui le sorprese non sono finite qua infatti a parte la finale di questo fantastico torneo si sono già aperte le iscrizioni per il simoplay community cup volume 2 replichiamo ragazzi sempre 400 euro di montepreno in palio 300 al primo 100 al secondo sempre piattaforma ovviamente playstation per iscrivervi trovate i miei social per contattarmi appunto per fare l'iscrizione nel commento fissato in alto e in descrizione scegliete voi dove andare mi contattate io vi do tutte le info giorni quando si gioca perché si eccetera eccetera e fate l'iscrizione ovviamente anche il simoplay community cup volume 2 sarà un torneo online cioè nel senso che andremo a streamare sarà un torneo con gli stream andremo a streamare semifinale finale con grandi ospiti con eventi eccezionali proprio come quello che vedrete domani quindi se volete partecipare anche voi a questi eventi se volete essere anche voi i protagonisti se andate avanti se vincete di queste fantastiche situazioni di esport qui organizzate sul mio canale iscrivetevi contattatemi come già detto trovate i social nel commento fissato in alto io spero ovviamente che vi piacciano questo tipo di situazioni credo di sì spero che anche per voi questa sia una bella notizia una buona notizia una grande iniziativa sicuramente spunteranno quelli che diranno ma chi se ne frega hai fatto un video per dire questo sì è il torneo della mia community sono sulla mia community è un evento per quanto mi riguarda importantissimo dove sto mettendo anima e cuore per organizzarlo ve lo assicuro ci sto sputando il sangue e quindi ritengo opportuno chiedere il vostro sostegno e parlarvi di questa iniziativa detto questo non ci perdiamo in ulteriori chiacchiere e andiamo finalmente a giocare il ritorno di simoplayped alla mano ve promesso e adesso andiamo in campo quindi ragazzi ci ritroviamo in divisione 3 perché sì in divisione 3 ce l'ho arrivato poi ho smesso di giocare non ho più giocato chissà magari mi ritorna la voglia e fino all'8 agosto proviamo la rancata chissà muo vediamo per adesso accontentiamoci di tornare in campo ovviamente se siete felici del ritorno in campo me lo scrivete nei commenti mi raccomando l'avversario trovato regà io mi vado a coprire gli occhi perché non voglio farmi condizionare dai non si sa mai becco il top 50 il top 100 mi vedo il bollino davanti mi condiziona quindi meglio coprissi gli occhi la nostra squadra è sempre quella regà non ho cambiato nulla e l'avversario ha un bel modulo a 5 difensori andiamo in campo e vediamo che succede ok ragazzi siamo in campo il ritorno di simoplay l'abbiamo già detto ma sono veramente felice dai di tornare a giocare qui insieme a voi sul canale vediamo un po se mi ricordo ancora come si fa è perché sono qualche settimana che nisba parte qualche partita amichevole col socio vai gilberto oh mamma mia passa a fianco la valla tengo l1 bremudon guarda la liscia va bene ok se sentite rumore ragà sta passando un camion sotto casa purtroppo ogni volta che registro sembra che aspetta proprio il momento quando non registro mai né moto né camion oh raga non riesco a fare passaggi mannaggia alla miseria calma 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 dai non sta girando è ovvio però bisogna mantenere la calma cioè per adesso non sono riuscito non dico assai a fare un passaggio mamma mia peccato la prima azione che ho imbastito l'ho vista dentro eh regà l'ho vista dentro liscio ora i card io te lo giuro ti metto in tribuna te lo sto giurando vedi di smetterla solo tu mi stai facendo i lisci e beh vi era gli hanno tolto la crocca gliel'avevo messa ogni tanto non la prendo si è andato a nascondere digno si è andato a nascondere allora è bravo dai è bravo non mi sta facendo proprio ragionare lui gli funziona l'L2 in una maniera spettacolare guarda 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 no è bravo non ho visto la posizione ma è evidente che mi devo impegnare molto più di così raga vabbè basta basta lamentarsi non vinco un rimpallo non mi fa niente però bisogna accettarlo ma ha capito tutto eh non potevo andare da Neymar la prendeva sicuro con l'L2 che c'ha supercancel devi fare un po' di supercancel simone i passaggi lisci non entrano con questo cioè a lui entrano i passaggi lisci a te no ecco la devo prendere raga la devo prendere la devo prendere mo lo prendo mi devo chiudere altrimenti lo prendo purtroppo sto gioco è così si vede quando devi prendere gol eh Madonna i lisci, i lisci Ma a voi non vi fa incazzare tantissimo i lisci Proprio situazioni che di solito prendi Però in quella partita che non gira Ti fanno i lisci Calma Simo, calma dai, calma Eppure settimane che non giochi stai arrugginito Però questo non sei manco tu Perché io premo le due E mi fa il liscio, non prende il pallone Come se recepisce il comando in ritardo Calma, calma Siamo ancora 0-0, dai Basta parlare, basta lamentarsi Calma, lo so Sto gioco fa incazzare, ma incazzare, incazzare Ma noi dobbiamo stare più tranquilli Dobbiamo essere più furbi STo gioco fa incazzare, ma incazzare, incazzare Sì. 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 Raikal bisogna togliere. Ancora a fare lesci sta. Sempre lui, solo lui sta facendo i lesci. Lui è molto bravo, capisce sempre dove mi giro. Madonna, meno male. Cambiamo modulo, mettiamo il secondario. Ho indovinato pure il lato. Vabbè, mo sta avendo pure fortuna, eh. Perché non è possibile. Sempre l'asta, che cavolo. Prima... C'ho ritardo nei comandi, comunque. Perché io l'ho premuto molto prima, quel controllo per fare la crocca. E non me l'ha fatta. Ho fatto i cambi, eh. Vabbè. 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 io non è forte cioè proprio non mi fa passare si è messo sta difesa a 5 è impenetrabile poi non è uscita una volta la palla fuori non sono riuscito a fare i cambi ma facciamo sti cambi colpa mia non so che dirvi evidentemente è colpa mia mi sento proprio che la squadra è bloccata però non riesco proprio a esprimere il mio gioco ma si sa a volte è così e ora dobbiamo cercare il colpo dal cilindro come dice il socio quella è l'unica ci vuole il colpo dal cilindro non si può fare diversamente lui sta sempre bloccato a chamber non mi ha fatto vedere rimettiamo il primario e perché? meno male e io ero in anticipo Raikard ma io sto sbagliando a non toglierlo perché nel momento in cui vedete che un giocatore vi dà problemi anche se Raikard va tolto secondo me meno male meno male meno male basta ragazzi ci dobbiamo accontentare il pareggio non so tacche giù ci difendiamo perché qua non si va oltre sono proprio curioso di sapere che divisione è secondo me è un prima per forza oppure c'ho solo la squadra bloccata io può essere pure lui è mob cioè lui proprio sa che se io mi giro deve allontanarsi e stare fermo se schillo deve allontanarsi è proprio del mestiere raga io c'ho l'occhio cioè è forte in difesa è forte veramente non viene mai incontro mai non preme mai la X via via pareggio pareggio ci sta bene così raga era fortissimo vai dai facciamo i complimenti all'avversario e basta non sono riuscito proprio a giocare c'ho Araujo migliore in campo perché in quella difesa non si passava niente da fare aumentata di 5 punti ma 284 ragazzi fortissimo mamma mia me ne so accorto infatti era proprio impenetrabile 284 al mondo l'avversario l'avversario ho trovato ragazzi anche questa volta mi ha da coprire gli occhi perché non lo voglio sapere allora noi rimaniamo così questo è il modulo dell'avversario e andiamo in campo siamo in campo ragazzi seconda partita e ultima dell'episodio non penso che ne giocherò un'altra forse vediamo un po' di fare bene e dai no dai che c'è Rijkaard via è forte è del mestiere si vede famosa nei marino e andiamo no no Prima. Mamma mia, non volevo fare quello, ovviamente, allontaniamo sta palla. Terrore nei miei occhi. Bravo. Liscio. Dai, però, non di là. Fallo. Niente, non lo dà. È passato. Che schifo, che schifo, che schifo. È un fallo netto. Un fallo netto da Kupoia ed è arrivato un gol. Mamma mia, sto gioco. Un fallo netto da Kupoia. È rigore. È rigore. Assurdo, raga, assurdo. C'è stato il contatto, eh. No, sei l'allungata. No, non te l'allungare. Assurdo. Alla prossima. Oh, sempre lui c'ha il rimpallo a favore, mannaggia la miseria, mannaggia. Va mossa, va mossa, dai. Va mossa, va mossa. No, da Rummenigge, no. 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 è là? Che è sto passaggio? non me la fido a passarla perchè c'ha l'L2 fotonico quindi faccio esco con il cerchio dalla difesa ma no ah eh ma è bravissimo proprio io ho provato anche a fare gli supercance ma ha coperto tutte le linee tutte non potevo fare niente mamma mia oh impassabile bravo 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 sarà di nuovo un altro top 200 top 300 secondo me eh punta messi va bene dai però dai però dai 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 vernissima ti fai tutto questo qui è un altro monopoly è un altro che è un altro ti fa messi a tutti è un altro tutto il nostro non potevo ti fa messi a tutti Bello Mi è piaciuto Stupendo Bellissimo Non c'è nessuno davanti Bellissimo Prendila una Una sola Prendila Mannaggia Ma io non volevo andare lì Io ve lo giuro che volevo andare centrale Non tutto largo Fortissimo Fortissimo Mamma mia Eh ho perso Ho perso Mamma mia Eh mi ha aggraziato il gioco Dovevo perdere Dovevo perdere Lì ho perso una palla brutta Infatti l'ho detto Ho perso Lui comunque ha sbagliato A tirare di prima Doveva stoppare E tirare E avrebbe fatto gol Però il gioco mi ha aggraziato Dai Però comunque io Sarà fortissimo Sarà comunque un top 200 Infatti è aumentata Di 5 punti Di nuovo Andiamo a vedere Sono proprio curioso Non lo dice Non lo dice Però Voi l'avete visto Io lo vedrò in fase di montaggio Secondo me era almeno un top 500 Ma almeno minimo Beh ragazzi Io direi che per questo video Può bastare così Non voglio andare avanti Perché sto vedendo troppe cose strane Avversari fortissimi Quindi meglio fermarsi Quando è così Continuo domani O al limite oggi pomeriggio in privato E poi insieme Noi continuiamo domani Sempre Se mi mettete almeno i 100 mi piace A questo video Io come sempre vi ringrazio Per essere stati in mia compagnia Noi ci vediamo domani Un abbraccio E un saluto Dal vostro Timo Play Bella ragazzi E un saluto E un saluto